L'identità di Gesù Cristo, abbiamo cominciato l'altra volta ad analizzare, è importante perché Gesù Cristo stesso chiede agli apostoli, ai discepoli e agli apostoli, chi sono io? Intanto l'ultimo passo era un Galati 2, un Giovanni 12, 23-26, tanto per riprendere il discorso dell'altra volta, è un discorso molto duro, però Gesù lo ritiene necessario. Ecco, questo brano lo riferisce intanto a lui stesso, Gesù, e tante volte abbiamo bisogno anche di capire che noi non possiamo illuderci di realizzare il vero bene senza questo tipo di impostazione. Il vero Dio per vincere il male si è fatto uomo ma ha dovuto affrontare il male. Chi ama la propria vita la perderà, la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire mi segua e dove sono io la sarà anche il mio servitore, se uno serve me il Padre lo onorerà. Quindi questo spogliamento è considerato giustamente nella Bibbia e nella nostra dottrina importante. È duro, io lo capisco, Gesù dice che è una strada stretta, una porta piccola, però è quella che porta poi al vero amore. Il male che c'è nel mondo passa sempre per il nostro io. Quando il nostro io domina troppo o in negativo o in positivo, perché certe volte il nostro io è molto esaltato e quindi la vanità, la superbia dominano e si mettono a posto di Dio. Oppure quando una persona poi crolla e si deprime, quando una persona poi non ce la fa più, perché in genere questi due picchi si richiamano. Ecco, chi sale troppo in alto vertiginosamente poi scende. Ecco, e questo è una cosa tipica. Ne approfitta anche nel campo diabolico. In genere le persone più vulnerabili sono quelle che passano da esaltazione a prostrazione. A che sono illusi, che pare che sono i padroni del mondo, a che a un certo punto sprofondano e dicono ma mi sono illuso, sono un fallito, sono una cosa. E poi da lì poi le dipendenze, alcol, droghe, cose, perché per tenere questi vertici o troppo esaltati o troppo sprofondati, purtroppo poi a un certo punto è facile cadere in vizi e in dipendenze. Quindi questo brano Gesù lo dice come una cosa non facoltativa, come una situazione necessaria per realizzare il vero bene. Ecco, non c'è una persona che possa sfuggire a questa situazione. Chi coltiva la propria vita nel senso egoistico, è giusto? Chi coltiva la propria vita come la cosa più importante, poi si perde, perché l'egoismo lo fa perdere in un modo o in un altro, alimenta il male. Chi invece rinuncia a se stesso per il bene degli altri, che è un po' un morire al proprio egoismo, di fatto realizza la vera carità. Ecco, questo voi vedete, per esempio, succede sempre nella vita anche non religiosa, anche nella vita, possiamo dire, profana. Se nella società ci sono persone che si sacrificano per gli altri, la città va avanti. Ma se una città, in una città, ognuno pensa a se stesso, di fatto la città sprofonda, perché ognuno pensa che l'altro debba fare il lavoro per tutti. Ecco, anche lo stesso fatto di delegare agli altri, che sono gli altri cattivi, che loro sono gli altri che devono fare, è un modo anche per, diciamo, discolpare noi stessi. Su questa base, poi Gesù ci dà delle indicazioni che ci fanno capire un po' chi è Lui. Perché questo cammino di spogliazione di noi stessi lo possiamo fare seguendo Cristo povero e crocifisso. Ecco, non è seguendo... Se dobbiamo rinunciare al nostro io, che cosa dobbiamo seguire? Dobbiamo seguire Gesù, fidarci di Lui e dire, Signore, portami Tu avanti. Io mi fido di Te. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Un po' più alto questo. E mi seguono. È importantissimo questo fatto. In Marco 8, andiamo alla successiva slide, ecco. In Marco 8, il contesto in cui Gesù rivela se stesso è sempre per la via. Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesalia e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo la gente chi dice che io sia, per la strada. Ecco, chi invece non percorre la stessa strada, in effetti percorre le sue strade. Ognuno di noi si traccia i suoi percorsi mentali, sapete? Ognuno di noi segue le sue strade. Ognuno di noi segue le sue vie. Vi ricordate il figlio al prodigo? Che stava male a casa perché nella testa aveva altre strade. Quando poi sprofondò nelle altre strade si capì che a casa sua invece si stava bene. perché rientrò in se stesso. Lui la testa ce l'aveva su strade sbagliate. Mentre qua San Marco dice che Gesù così ci porta lungo la strada a capire mentre fanno strada insieme a Gesù. Vi ricordo che stavano andando attraverso villaggi Cesarea di Filippo. Era una città che era stata nominata così per onore di Giulio Cesare. Ecco, con un riferimento ai governatori locali. Quindi di fatto era una situazione pagana. Quindi è come se vivessero una strada in mezzo ai pagani. Ma Gesù traccia una strada diversa verso Gerusalemme che sarebbe la salvezza. Nella slide successiva ci porta in Luca, ecco, un paradosso importante. Ve lo leggo poi ve lo spiego. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli però erano con lui ed egli impose loro questa domanda. Le folle chi dicono che io sia? Questo paradosso viene molto sottolineato dagli studiosi della Bibbia perché dice Gesù è solo ma nella sua solitudine accoglie i suoi discepoli. Quindi di fatto non era solo. Però si sottolinea che era solo per far capire che i discepoli erano invitati a entrare nella sua solitudine. Quindi lui era solo ma fece in modo che nella sua intimità col padre introduce i suoi discepoli. Ecco, questo è un privilegio che non tutti hanno. Ecco, se una persona non è discepolo del Signore non riesce a entrare nell'intimità con Dio. Fino a quando una persona non fa una scelta di discepolato, ma è una persona... Gesù ha molti ammiratori. Gesù ha molte persone che lo guardano da lontano ma non lo seguono. Ecco, ci sono molte persone che ammirano Gesù, però di fatto non è che seguono Gesù. Seguono le loro strade, ognuno di noi segue, vi dicevo, un po' le proprie strade, anche mentali. Ecco, in questa maniera, se uno non rinuncia alle proprie strade mentali per seguire Gesù Cristo, non può diventare suo discepolo. Però solo i discepoli, quelli che seguono lui, vengono introdotti nell'intimità sua. Questa introduzione nell'intimità di Gesù è una cosa importantissima perché rimanendo estranei a Gesù, esterni, non si riesce a capire il tesoro che è Gesù. Uno si crea altri tesori. È molto importante questo fatto perché tante volte una persona vorrebbe conoscere le cose profonde di Dio rimanendo esterno, estraneo, rimanendo un ammiratore, rimanendo un osservatore. Però non basta questo, occorre impegnare la vita. Senza un impegno della vita, un discepolato, di fatto una persona non può capire le cose più profonde di Gesù. Si rimane sempre all'esterno. Quindi una religiosità esterna, una religiosità un po' estranea, di fatto lascia sempre un poco insoddisfatti. Ecco, Gesù sfugge. Gesù rimane una persona lontana, mentre è proprio nell'intimità che si capisce veramente chi è Gesù. Ecco, si può cambiare se una persona nell'intimità con Gesù riesce a rinunciare al proprio mondo. Perché il discepolato di Gesù ci costringe a non seguire altri e a non seguire noi stessi. Ecco, per farci discepoli di Gesù dobbiamo in qualche maniera rinunciare ad altre strade. Ecco, se una persona segue tante strade, se una persona segue i propri pensieri, se una persona segue i propri sentimenti, se una persona segue gli altri, se una persona segue tanti maestri, cioè di fatto non può percepire l'intimità con Gesù. Ecco, nella vita non si può avere tutto. Nella vita bisogna fare delle scelte. Questo non significa condannare le persone, perché poi alla fine, sapete, una persona può anche, benissimo, ci auguriamo che ci salviamo l'anima, ma qua non si tratta di salvarsi l'anima. Qua si tratta di raggiungere la perfezione dell'amore. Ecco, qua non si tratta di dire, va bene, vivo come viene e poi cerco di salvarmi l'anima, alla fine speriamo che mi salvo, alla fine speriamo che ce la caviamo, va. Certo, a questo livello in effetti uno non può sperimentare nella vita il vero tesoro, la vera pace, va inseguendo sempre la gioia e non la raggiunge mai. E invece chi sceglie Gesù Cristo fin da ora percepisce la sua pienezza, la sua pace, la verità. Vi ricordate, chi ascolta la mia parola diventerà mio discepolo, conoscerà la verità e la verità lo renderà libero. Siamo a Giovanni capitolo 8. Quindi in questo paradosso io vi direi, noi troviamo un segreto che ci serve. Ecco, noi non possiamo entrare nella solitudine e nell'intimità di Gesù, il rapporto col Padre. Possiamo dire, non possiamo sperimentare la Trinità, l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, se non facciamo la scelta di seguire lo Spirito Santo, di seguire Gesù, di seguire la Trinità. Ecco, di diventare discepoli di Gesù, di ascoltare la sua parola, di metterlo al centro della nostra vita, in modo che Lui possa illuminarci. Andiamo avanti, ci sono ora quattro passi biblici. Ci sono quattro passi biblici importanti a confronto. Vedete, quando Gesù chiede chi sono io, essi gli risposero Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno dei profeti. Andiamo avanti, l'altro passo. Luca 9, allora domando loro, ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose, il Cristo di Dio. Matteo invece risponde un po' diversamente. Rispose, Simon Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Giovanni 6, 69, invece dice, noi abbiamo creduto e sappiamo che tu sei il Santo di Dio. Sono tutte definizioni esatte, però necessitano di un acchiarimento, perché sì, dire il Santo di Dio, il figlio del Dio vivente, tu sei il Cristo, è una definizione molto, diciamo, lapidaria, però uno può dire, e che significa? Perché dire il figlio del Dio vivente, vedendolo poi morire sulla croce, sapete, sembra una contraddizione. Il figlio del Dio vivente, il figlio del Dio vivente che muore sulla croce come un malfattore, come una persona, per esempio, un fallito. Ecco, allora Gesù continua, ecco, c'è un brano di Marco 8, 33. Quando Gesù gli dice, vedete che sì, è vero, io sono il Messia, il figlio del Dio vivente, il Santo di Dio, però io andrò a Gerusalemme e morirò per gli altri. Fino allora, fino a Gesù, sapete, come avete sentito altre volte, fino a Gesù i sacrifici si facevano per Dio. Le creature sacrificavano gli animali e tante offerte per Dio, per cercare di ingraziarsi Dio. Qua la cosa è capovolta, Dio che si fa uomo è Lui che muore per noi. Sapete, sballavano tutti i riferimenti religiosi, cioè fino a Gesù le persone pensavano che Dio esigesse sacrifici. Ecco, che Dio, per essere buono con noi, chiedeva agli uomini di sacrificare qualcosa per Lui. Arriva Gesù Cristo, lo riconoscono come il Messia, l'inviato di Dio, e Lui dice, io andrò a morire per voi. Sono io che mi sacrifico per voi. E quindi la salvezza è come se fosse capovolta, no? Prima si pensava che per salvarsi bisognava fare sacrifici verso Dio. Ora invece per salvarsi bisogna accettare il sacrificio che Dio fa sulla croce per noi. Sapete, i conti non tornano, no? Qual è la verità? Fino a Gesù Cristo le persone che facevano più sacrifici per Dio si credevano più fedeli a Dio e più amici di Dio. Cioè più uno si voleva ingraziare Dio e più cose importanti offriva a Dio. Sapete, una cosa è offrire un capretto, una cosa è offrire un bue. Vi ricordate che i poveri, Giuseppe e Maria, offrirono due colombi? Cioè ancora più piccirini di un capretto, che erano troppo poveri. Quindi si misuravano le cose sui sacrifici che si facevano per Dio. Quindi se uno offriva le primizie, mettete che uno aveva dei raccolti, allora le prime ciliegie, diciamo così, a un certo punto le offriva a Dio e diceva Signore, invece di mangiarmele io, le offro a Te. E quindi dimostrava che voleva bene a Dio tanto. Certo, su uno dei primizi si mangiava iddo, in effetti non dimostrava molto amore, vi accorgete? Cioè se uno diceva, Signore, i primi ciliegie me le mangio io, poi che restano, poi su chi verme ti offriamo a Te. Invece vi accorgete che c'era sempre una gestione umana dei sacrifici. Arriva Gesù e dice, io sono il Dio vivente, il figlio del Dio vivente, ma sono io che vado a Gerusalemme e io mi sacrificherò per voi, per vincere il male che c'è in voi. A questo punto gli dicono, tu non andare a Gerusalemme. E Gesù come risponde? Perché non vogliono che lui si sacrifichi, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimpoverò Pietro e gli disse, vai dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quindi la religione che c'era prima di Gesù Cristo era una religione però secondo gli uomini. La religione della legge è una religione secondo gli uomini. Noi spesso rischiamo di cadere di nuovo in una religione secondo gli uomini, perché mettiamo non tanto l'amore che Dio ha per noi, ma quello che noi presumibilmente facciamo per Dio. E questa è la religione secondo gli uomini, dirà San Paolo, una religione nella carne, cioè umana sarebbe, ecco, con tutti i limiti dell'umanità. Noi dobbiamo stare molto attenti, perché il Signore ci ha insegnato che noi siamo veramente amici di Dio se accogliamo il dono di Dio. Lui ci dona il battesimo. Infatti vi accorgete che tanta gente non accetta il battesimo come dono. Se vi accorgete, ci sono molte persone che dicono no, bisognerebbe battezzarsi a 18 anni, a 20 anni, a 25 anni. Ma perché? Se il battesimo è un dono, non te lo puoi mai meritare tu. Anzi, a 20 anni hai più peccato di quando avevi un anno. Nessuno può meritare il dono di Dio. E che non si capisce che il battesimo è un dono. Dice, ma tante volte poi non si vive il battesimo. Un problema è non viverlo, ma rimane un dono. Ma scusate, la vita normale, la vita naturale non è un dono. Tu gli dai il dono. Nasce un figlio, poi impara a vivere. Speriamo che vive bene. Ma la vita è un dono, sia a livello naturale, sia a livello soprannaturale. Ecco, credo che sia importante questo fatto. Che Gesù rimprovera San Pietro perché ragiona ancora come gli uomini. Andiamo avanti. Ecco, c'è un Matteo 16, 17. Gesù disse Beato te, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Il fatto che Gesù è il Messia, San Pietro lo ha ricevuto come un'ispirazione di Dio. A questo punto dovremmo dire che, sapete, tante volte noi riceviamo ispirazioni di Dio, ma non sempre ce ne accorgiamo. Poi vanno verificate le ispirazioni di Dio, ma ci sono le ispirazioni di Dio. Ecco, tante volte il Signore ci dà delle ispirazioni che sono giuste. Però ci vuole qualcuno che, come Gesù, ci dice è vero, è un'ispirazione che viene dal Signore. In questo, per esempio, Sant'Ignazzo di Loyola ha fatto molti studi, molte esperienze che riguardano il discernimento degli spiriti. Ecco, perché tante volte ci possono ispirare dentro di noi sia cose cattive sia cose buone. Può essere il nostro orgoglio, può essere la paura, lo spirito di paura, può essere lo spirito della superbia, dell'egoismo, lo spirito del maligno o lo spirito di Dio. Ci sono dei percorsi che noi facciamo, che bisogna fare, un discernimento per capire da dove viene una ispirazione. Ci vuole tempo, ci vuole preghiera, bisogna purificare le intenzioni, bisogna verificare tante situazioni, tanti segni di Dio. Sapete, bisogna essere molto cauti, però bisogna fare un discernimento. Qui Gesù dice a San Pietro che quella cosa che gli è venuta in mente, perché l'ha detta spontaneamente, non poteva avere la coniezione San Pietro. Gli è uscita nel cuore una parola spontanea che ci ha azzeccato. E Gesù gli dice, beato te, perché il Padre mio te lo ha ispirato questo, perché tu non lo potevi capire. Questa è una cosa molto bella che dobbiamo chiedere al Signore, perché il Signore opera nelle persone, perché siamo tutti chiamati, ma bisogna imparare a discernere le cose che vengono dal Signore e le cose che non vengono da Dio. Fondamentale è l'ascolto della parola, perché se una persona ogni giorno ascolta la parola di Dio e si confronta con la parola di Dio, che è molto più oggettiva, non è soggettiva, non è, possiamo dire la parola di Dio la riceviamo, il nostro io non la può, diciamo, elaborare, è così la parola di Dio. Ci viene incontro come una luce e allora ci aiuta molto la parola di Dio a capire nelle situazioni di vita se la nostra vita è soggetta al bene e soggetta al male. Ecco, e quindi bisogna stare molto attenti. Un altro passo, infatti ora verrà Galati 1, ecco, Galati 1, 15-20, San Paolo come San Pietro, anche se non si può fare un diretto parallelo tra San Pietro e San Paolo, vi ricordate che San Paolo non conobbe Gesù in vita, lo conobbe direttamente dal risorto, perché San Paolo era un fariseo importantissimo, di grande cultura e di grande importanza, tra l'altro era anche cittadino romano, che non era una cosa facile allora, essere cittadini romani favoriva molto, perché essere cittadini romani apriva le porte proprio a tante cose, infatti non sono riusciti a condannarlo, perché lui essendo cittadino romano si è sottratto al giudizio in Israele e si è appellato ad andare a Roma, per questo poi andò a Roma, perché ha detto io sono cittadino romano e quindi non posso essere soggetto a una condanna in Israele, perché Israele era stata occupata dai romani e i romani cumannavano, e lui era anche cittadino romano, oltre che essere un ebreo. Sia però San Pietro fu chiamato così, vedete, il Signore lo chiamò, ispirandogli nel cuore chi è Gesù veramente. San Paolo, ora vedremo tanti passi biblici di Galati, dove lui racconta le sue situazioni, ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre, mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, vedete, direttamente sulla via di Damasco, il Signore gli rivelò chi è suo figlio Gesù, perché lo annunciassi in mezzo alle genti subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gesusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, tre anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa, che sarebbe Pietro, Pietro e Cefa la stessa cosa, no? e rimasi presso di lui quindici giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo il fratello del Signore. Fratello intendono il cugino, perché uno dei San Giacomo era fratello di... lo chiamano fratello per dire parente, perché in ebraico i fratelli, soprattutto di primo e secondo grado, li chiamavano fratelli. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio e non mentisco. Questo è importante perché San Paolo, da nemico di Gesù, a un certo punto sulla strada di Damasco, Dio lo illumina e gli fa conoscere chi è Gesù. Ora, questo avviene perché San Paolo, nonostante fosse in una strada sbagliata, però desiderava nel suo cuore servire Dio. Può succedere che una persona abbia il desiderio di servire Dio, ma si trovi senza riconoscerlo in una strada sbagliata. Il Signore opera con lo Spirito. Ci sono molte persone che sono oggettivamente su una strada sbagliata, in una mentalità sbagliata, in una situazione sbagliata, ma dentro di loro non hanno colpa, perché dentro di loro sono stati condizionati come Lui dalla famiglia, dagli studi, da tante cose, dalla società. E quindi dobbiamo tenere conto di non giudicare mai le persone, perché ci può essere una persona che è oggettivamente nell'errore, ma soggettivamente, cioè dentro di Lui, non rendersi conto. Perché questo dobbiamo renderci conto, perché il Signore ne ha tenuto conto, ha tenuto conto del fatto che San Paolo, pur essendo una persona nell'errore, la sua intenzione era quella di servire Dio, solo che si trovava su una strada che gli avevano proposto fin da bambino e quindi era una strada oggettivamente sbagliata. Ma il Signore poi, vedendo il suo cuore, sapendo e chiamandolo a diventare un grande evangelizzatore, fin dal seno di sua madre, voi pensate, le chiamate fin dal seno della madre, ma per realizzarsi aspettò tanti anni, tanti anni. Ecco, per cui è importante, aspettò cento e tutti anni. San Paolo, quindi, è un testimone del fatto che Dio opera anche senza che noi ce ne accorgiamo. e quindi è importante per noi capire che ci può essere una situazione così in cui noi ci troviamo in una situazione di errore senza che ce ne accorgiamo, se non abbiamo colpa, perché ci può essere anche un'ignoranza colpevole. Ecco, andiamo avanti, ci sono altri passi che San Paolo, sono passi autobiografici che ci aiutano a capire quello che il Signore vuole realizzare. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano, non è un programma, una realizzazione umana. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo, nel giudaismo, perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Vedete, questa nota autobiografica è importante. Lui dice, io ero accanito contro la Chiesa di Dio, contro il Signore, perché di fatto ero molto zelante, ma ero in una situazione sbagliata. quindi continuando, lui poi parla ancora, ecco, anzi, volevo dire del passo precedente, prima di andare dagli apostoli, a proposito del discernimento, non so se vi siete accorti, San Paolo dice, quando il Signore sulla strada di Damasco mi rivelò suo figlio Gesù, io non sono andato da nessuno, ma sono stato tre anni nel discernimento. Cristo è importante, non è che il discernimento si fa, sapete, da un giorno all'altro, a volte ci sono cose facili che si capiscono subito, a volte invece ci sono cose che richiedono anche anni, questo fa parte del discernimento che il Signore ci vuole dare. Ecco, vi pregherei di tenerne conto di questo fatto. San Paolo direttamente da Dio ricevette la rivelazione e la chiamata, ma non fece alcuna scelta se non prima aveva chiarito dentro di sé, approfondito e possiamo dire maturato la sua nuova esperienza. Quindi tante volte la premura nella vita spirituale e nella vita cristiana determina anche molti guai. Le cose in effetti davanti a Dio non si possono fare con premura, non si possono fare alla svelta. Ecco, non sono scelte, a Napoli dicono shue shue, le scelte proprio facilone. Ecco, sono scelte che si fanno proprio maturando le cose, meditando, pregando, supplicando, chiedendo al Signore tanta luce e tanta anche tanta sapienza. Ecco, quindi da parte dunque delle persone più autorevoli, quali fossero allora le persone più autorevoli della Chiesa, quali fossero allora non mi interessa perché Dio non guarda in faccia ad alcuno, quelle persone autorevoli a me non imposero nulla. Anzi, visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, cioè per i pagani, ecco, perché San Paolo ha ricevuto la chiamata direttamente da Gesù per andare ad annunciare il Cristo alle popolazioni pagane, cioè a noi, che non siamo passati per l'ebraismo, mentre San Pietro come a Pietro per i circoncisi. Quindi il Signore dà compiti diversi, ma per capire questo ci sono voluti anni, ci sono volute anche molta fatica. Ecco, non si capiscono le cose a lampo così, o non tutte le cose si capiscono immediatamente. Andiamo avanti. Riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono le colonne che sostenevano la Chiesa di allora, cioè le persone che avevano la responsabilità della Chiesa iniziale. Vedete, Giacomo, Cefa e Giovanni. Ritenute le colonne dietro a me e a Barnaba alla destra in segno di comunione. Perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi. Le genti sarebbero i non circoncisi, i pagani. Loro li chiamavano le genti, i pagani, i popoli pagani. E loro tra i circoncisi, cioè tra gli ebrei. Andiamo avanti. Galati 2, 1, 2. Quattordici anni dopo andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba portando con me anche Tito. Vi andai però in seguito a una rivelazione. Esposi loro il Vangelo che io annuncio tra le genti ma lo esposi privatamente alle persone più autorevoli per non correre o aver corso per non correre o aver corso in vano. Significa che tante volte anche attraverso i responsabili noi ci rendiamo conto se la nostra fede nonostante lui avesse avuto una rivelazione un'altra rivelazione del Signore lui ha avuto molte rivelazioni del Signore lui per non rischiare di aver capito male ecco dopo 14 anni dopo il primo incontro ritorna a parlare con gli apostoli per non rischiare di sbagliare strada. ecco questo è un'altra cosa importante io vi direi tante volte il confronto con persone più diciamo più esperte di noi ci dà la tranquillità che noi non siamo nell'errore io vi ricordo che certe volte non si tiene conto né di questo né della dottrina della Chiesa a volte si snobba la dottrina della Chiesa come se fosse una cosa una palla al piede in effetti non è così perché le cose che Dio ha rivelato ufficialmente di lui sono per noi una sicurezza le persone che ci ha dato come riferimento come responsabili a livello anche universale i pastori sono una sicurezza perché se no come dice San Paolo rischiamo di correre in vano cioè siamo su una strada sbagliata vi accorgete che ci sono tante prudenze c'è la prudenza nel discernimento il confronto con le persone più autorevoli il tempo che ci vuole per capire le cose bisogna fare le cose per bene e non di testa propria perché lo Spirito Santo è comune a tutti noi e ci dà doni diversi ma il progetto è uno solo il greggio è uno solo quindi tante volte vi accorgete che la nostra individualità la nostra possiamo dire opinione personale i nostri gusti i nostri interessi le nostre idee le nostre precomprensioni le nostre fisime le nostre paure i nostri giudizi personali in fondo rischiano di inquinare quello che Dio ci vuole dare in genere nei primi anni di conversione ma i primi anni di conversione intendo i primi dieci anni vent'anni non è che è così certe volte nei primi anni noi senza volerlo anche noi che siamo stati battezzati da bambini ecco quante volte qualcuno ci dice come mai qualcuno mi chiede ti sei convertito al Signore a vent'anni a vent'un'anni dici ma i primi vent'anni è gioia evidentemente la mia testa le mia mentalità diciamo le persone che ho incontrato l'ambiente in cui sono vissuto evidentemente non avevano non mi avevano molto o del tutto aiutato a trovare la strada giusta non vi dovete scandalizzare di questo anche se le nostre famiglie sono cristiane non sempre si riesce a portare avanti un discorso di maturità a volte per esempio la scuola incide negativamente la società incide i compagni che frequenti incidono le esperienze che fai incidono e di fatto nel mio caso il Signore ha affaticato vent'anni per cercare di farmi capire quale è la scuola giusta e questo tenetene conto di questo fatto perché certe volte bisogna anche ammettere che senza volerlo nella nostra vita ci guida qualche altro che non è lo Spirito di Dio possono essere sogni umani possono essere esperienze negative possono essere tentazioni possono essere orgoglio egoismo vanità superbia tante volte poi quando ci siamo avvicinati a Dio credo che molti di voi si sono avvicinati veramente al Signore anche da adulti e ora dico quando ci siamo avvicinati al Signore comincia una nuova fase in cui cerchiamo di dare un ruolo a Dio ma poi per darglielo veramente a volte bisogna che passano altri 10 anni altri 20 anni quindi sono cose sapete che incidono nella nostra vita ecco non pensate che quando una persona si converte voi vedete ad esempio c'è gente che sapete va a Lourdes va a Fatima va a Meggiugorje si converte diciamo turno convertito piano turno convertito nel senso si apri una porta ma attenzione bisogna poi capire come si cammina come si matura bisogna conoscere il vero Gesù bisogna entrare nella mentalità di Gesù Gesù pure a noi ci può dire ecco tu pensi come gli uomini non pensi come Dio Dio pensa diversamente da noi noi pensiamo in modo possiamo dire ipotecato dal nostro io il nostro pensiero è sempre molto legato all'io io io noi non ce ne accorgiamo ma ognuno di noi tende a dire io io per seguire Gesù bisogna dire tu tu Gesù no io ecco se una persona vi faccio faccio una battuta faccio una battuta siamo testati se a un certo punto uno continua a dire io sento caldo io non ci affazzucchio io sono esasperato io non io non non mi piace l'estate io non sono così comincia a dire signore tu mi chiedi di offrirti pur sto caldo tu mi guidi nonostante il caldo tu mi guidi tu ma se uno continua a dire io 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 sapete già cosa io sono sfortunato io e io così e io fino a quando diciamo io c'è un problema grave appena diciamo signore ma tu che vuoi che io tu che vuoi che io attraversi l'estate con pazienza sì la risposta c'è un signore vuole che non ne abitiamo con pazienza no pazienza pure se non puoi irri a mare io non ci posso irri a mare non tutti hanno la grazia di irri a mare e poi col mare inquinato tante volte non è un conviene manco irri c'è il mare per dirvi non è che è facile poi affrontare queste cose io 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 tanto per fare una battuta però era ecco se andiamo avanti filippesi due invece ci dà la vera definizione non solo di chi è Gesù ma di cosa fa Gesù vedete una cosa è gli studiosi parlano di una cosa un po' difficile che io non vi dico qua la sostantivazione di Gesù e il fatto di descriverlo però di fatto io vi direi al di là di tutte queste cose che giustamente gli studiosi devono spaccare il capello in quattro a noi interessa questo a livello popolare non basta definire Gesù con un sostantivo è il Messia perché uno ci può dire a Nausio è il Messia è il Messia che significa invece poi c'è la descrizione nella Bibbia di chi è il vero Messia perché molti pensavano che il Messia fosse una specie di trionfatore perché dicevano il Messia verrà e salverà l'umanità e come arriva è come la salva l'umanità come Rambo ecco come Robin Hood come che posso dire un altro eroe del cinema poi c'è oltre che il fatto concettuale il fatto per esempio di dire chi è Gesù che cosa fa il vero Messia e qua c'è la definizione importante che San Paolo riporta in Filippesi 2 ma gli studiosi dicono che quasi certamente si può dire certamente è un cantico precedente a San Paolo San Paolo lo riporta nella lettera dei Filippesi ma lo ha introdotto proprio perché l'ha trovato nelle comunità chi è Gesù? Egli Gesù pur essendo nella condizione di Dio non ritenne un privilegio l'essere come Dio vi ricordo che quando si dice nella Bibbia Dio si intende sempre Dio Padre ecco perché Gesù Cristo è Dio ma è Dio Figlio quindi di non essere uguale a Dio Padre ma svuotò se stesso assumendo la condizione di servo diventando simile agli uomini dall'aspetto riconosciuto come uomo quindi il vero Messia spogliò se stesso pur essendo Dio ed estendo uguale a Dio spogliò se stesso ecco non so se avete mai sentito parlare che questo spogliamento gli studiosi lo chiamano la kenosi cioè lo svuotamento proprio un annullamento della propria vita per amore Gesù veramente si spogliò è come se si spegnesse il sole per amore nostro questa è una cosa molto importante il Signore si spogliò della sua gloria divina per farsi un semplice uomo una persona normale una persona povera una persona un bambino povero che addirittura non aveva manco una culla nella mangiatoia ecco lì è il vero Dio vedete è importante capire questo lo spogliamento la kenosi di Gesù ci fa capire chi è il vero Dio che per amore nostro scende dal cielo e si fa uno di noi per amore nostro è entrato nella nostra povertà ha sofferto come noi ma ha sofferto anche per noi per darci la grazia di trasformare la sofferenza e la morte in salvezza solo lui lo poteva fare un uomo può soffrire e morire ma non può vincere la sofferenza e la morte ma Dio fatto uomo fatto uomo ha sofferto ed è morto ma è riuscito perché la persona era divina a trasformare la condizione umana da perdente in vittoriosa il giorno di Pasqua quindi come Gesù è Dio fatto uomo facendosi uomo è riuscito a fare ciò che gli uomini non possono fare cioè vincere il male e la morte aprendoci le porte del paradiso scusate guardate ecco sto finendo ora perché già sono le cinque e mezzo però ormai ci sono vediamo penso gli ultimi passi mi pare sì filippesi sì gli ultimi due passi ci sono biblici che avevo segnato negli appunti finiamo questi due passi così la prossima volta andiamo avanti e Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo questi sono due passi che già diciamo sono un bis diciamo sono una quasi un doppione per concludere Pietro lo prese in disparte quando vide che lui manifestò chi è veramente il Messia il Messia sofferente e si mise a rimproverarlo dicendo non voglia Signore Dio non voglia cioè il Signore tuo Padre non può volere questo questo non ti accadrà mai ma egli voltandosi e questo passo l'avevo già preso prima ma ve lo riporto apposta per concludere questa giornata ma egli voltandosi voltatosi e guardando i suoi discepoli rimproverò Pietro e disse vai dietro a me Satana perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini quindi vi accorgete Gesù rivela chi è ai suoi discepoli ripeto vedete che la gente di fuori non capì niente la gente che non seguiva Gesù perché migliaia di persone di fatto lo ammiravano lo vedevano voi vedrete nella messa di oggi che si dice che mangiarono il pane moltiplicato 5.000 persone ma di queste migliaia di persone che rimanevano affascinate tantissime persone non seguivano Gesù non sono diventati i discepoli di Gesù perché per diventare i discepoli di Gesù bisogna fare delle scelte bisogna fare una scelta di vita i discepoli sono introdotti nell'intimità con Gesù vi ricordate Luca 9 e a un certo punto Gesù rivela a loro la mentalità di Dio come pensa Dio Dio non pensa a salvare la sua vita Dio pensa a donare la sua vita quindi quando noi tiriamo l'acqua al nostro mulino come la messa di oggi ci dirà noi non siamo nella logica di Dio siamo nella logica degli uomini nella logica degli uomini ognuno tira l'acqua al proprio mulino perché ognuno ha il suo mulino nella ottica di Dio il mulino è uno per tutti e quindi l'acqua si deve tirare per il mulino di tutti sapete noi diciamo il Signore ci dice padre nostro non possiamo noi se vogliamo essere cristiani ognuno grattare le cose per i fatti suoi se noi vogliamo vivere veramente il discipolato di Gesù dobbiamo mettere prima delle nostre cose personali il bene di tutti come una famiglia perché le famiglie si dividono perché in effetti a un certo punto si mettono contro pure marito e moglie invece di avere un obiettivo comune marito e moglie ognuno ha i suoi interessi ognuno ha le sue cose e a un certo punto si 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 separano o rischiano di separarsi o di distruggersi perché ognuno tira da una parte invece il Signore ci chiede come un po' tutto il ragionamento che oggi vi abbiamo proposto di non seguire il nostro io ecco ma seguendo Gesù imparare a vivere sempre mettendo al primo posto il bene degli altri vi ricordate i primi comandamenti sono due comandamenti amare Dio e amare i fratelli come Dio e io io vengo poi alla fine io vengo mentre l'istinto umano è dire io io come faccio io quello che voglio io quello che desidero io la penso così io voglio questo in effetti Gesù non fece questo ragionamento Gesù disse padre tu cosa vuoi che io faccia e l'umanità di che cosa ha bisogno Gesù fece questi due passi il padre padre io vengo per fare la tua volontà le persone che hanno bisogno di essere salvate allora do la mia vita per loro e così ha vinto il male su peggio ci siamo non so se le cose che vi ho detto vi sono un po' confuso vi dico sempre fate delle domande pure per iscritto me lo dite perché a me farebbe piacere se posso chiarire qualche cosa però mi sembra bellissimo il fatto che per conoscere Gesù bisogna veramente spogliarsi del proprio possiamo dire dell'ipoteca del potere del nostro io io ecco bisogna sottomettere il nostro io all'amore di Dio e all'amore verso gli altri grazie a tutti Grazie a tutti